Sei per me, questo non sei Gesù Il prossimo pezzo, il prossimo pezzo è un pezzo speciale, un pezzo particolare innanzitutto è un pezzo che sicuramente riconoscerete, avrete sentito Vieni qua Eva, è una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola, una piccola Eh, non voglio che mi die, la metto il telefonino che lo faccio col tuo, ti piace? Sì Le torrelle fatte a mano, ti piace questa qui? È bella così Guarda che scusa, scusa eh, mi pazienza Scusa eh Scusa eh Guarda qui Guarda qui Guarda qui Guarda qui Tento fotografero dopo compro. Speriamo che funzioni. Grazie. Tu razzista, io sono mica Salvini. Mi raccomando, fai carriera. Mi raccomando, fai carriera. Non ti piace, mamma mia. Appunto. Belli, scusa. Belli, belli, se ne compro uno, vuoi? Se ne compro uno, per Natale. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.